E se fosse proprio questo il segreto? Da migliaia di anni c'è una domanda a cui l'uomo tenta ancora di dare una risposta. Qual è il segreto per una vita felice? È un'ottima domanda, no? Ovviamente io non so dare una risposta precisa a tale domanda. Ognuno di noi crea dentro di sé, nel tempo, una propria teoria. Un concetto personale che spera possa portarlo a questo. Ad esempio la famiglia. Le famiglie non sempre riescono, siccome ce le immaginiamo. Magari la fede. Ma la fede, per quanto profonda e sincera possa essere, a volte tende a vacillare dinanzi agli ostacoli che la vita porta sulla nostra strada. Il lavoro, il denaro. Beh, i soldi di certo non crescono sugli alberi, il che è un gran peccato. Ma sapete come si dice? Certe volte con il loro lavoro, con l'impegno, il sacrificio, la dedizione. Non bastano comunque. Ah. È strano, eh? Aspettate, forse ci sono. Una vita ossequiosa di leggi e regole. Ah, sì. Sì, questo può funzionare. È inutile che facciamo i finti santi. Bene o male, chi più e chi meno, tutti abbiamo infranto la legge almeno una volta. Tutti, ognuno di noi. Perché negare? Tanto varrebbe darsi la zappa sui piedi da soli. Ecco ora voi vi starete chiedendo cose del tipo, palama che pessimista, oppure la voce, la gioia di vive sto ragazzo, in base alla zona ovviamente. Ma ecco perché vi sto dicendo tutto questo. Anch'io ho una mia teoria ovviamente. È banale o no che sia, onestamente non me ne frega un cazzo. Io credo nel non arrendersi mai, nel credere sempre nei propri mezzi, nei propri sogni, nella forza di rialzarci quando crediamo che la vita ci stia schiacciando la testa sul pavimento. Oh, la vita mi è chiusa una porta. E allora prendete una città e sfondate quel cazzo di portone stile Jack Nicholson e Shining. Ecco appunto. Sorridete, sorridete sempre, stringete strette le mani della gente, trasformate in antidoto le chimere della vostra vita e inseguite i vostri sogni. Al cuore, al cuore, al cuore, siete liberi, siete pazzi, fate qualcosa volete. Ma come l'è? Perché no? Datemi pure del pazzo, lo prenderò come un complimento. E se derivasse proprio da tutto questo? E se fosse questo il segreto della felicità? Pensateci. Cosa posso dire di più se non? Buona vita. Buona vita.